ve l'ho detto amici cari che l'australia è tanto bella lo è davvero e mica solo perché lì c'è mia sorella perché è un'isola gigante e non ce ne sono tante è bagnata da due oceani e abitata dagli aborigeni poi è piena di animali in tutto il mondo i più strani canguro coala ornitorinco e munco caburra e anche il dingo mia sorella è andata lì per salvare le balene lo sapete lei ha portata a dare agli altri a far del bene a un amico buffo assai è un pesce che non ho visto mai sembra di gomma e può galleggiare si chiama blobfish e si fa subito amare poi c'è un orso muscoloso si chiama wombat e non è pauroso c'è il dogongo che è inquietante è il cugino dell'elefante in australia anche le piante sono varie sono tante molte colori abbiamo qua e abbiamo prese proprio là lo sapete una cosa curiosa è australiana la mimosa fra gli alberi poi il più grande si trova là è un eucalipto gigante cari amici vi saluto perché voglia di chiamare mia sorella dall'australia che mi deve raccontare ciao ciao alice sempre in cerca di mille nuove avventure lei cerca indaga e scrive notizie di cui parla grazie a tutti